L'educazione, data dall'istruzione di base e dal successivo costante training educativo, è l'elemento fondante della crescita economica di un paese e la base stessa della partecipazione democratica. Se un paese non investe in educazione e in qualità delle strutture educative, non solo si condanna a una bassa crescita, ma anche a una crescente disuguaglianza interna, che a sua volta inciderà sulla qualità dello sviluppo e della stessa democrazia, incidendo negativamente sulla formazione della persona e della comunità, sulle competenze necessarie allo sviluppo e infine sulla formazione e selezione della classe dirigente. Quello che ho appena letto è un piccolo estratto da un libro chiamato Nello specchio della scuola, scritto da Patrizio Bianchi, cioè l'attuale ministro dell'istruzione. Molte volte ci si è chiesto negli ultimi giorni come potrebbe cambiare la scuola sotto il governo Draghi. Beh, una risposta potrebbe venire proprio dalla lettura di questo libro, di cui proprio oggi ce ne occuperemo. In realtà non è la prima volta che citiamo Patrizio Bianchi qui sul canale di Whatsapp Economy. Infatti, quando feci il video sulle privatizzazioni di Mario Draghi, una delle principali fonti era proprio Patrizio Bianchi con il suo La rincorsa frenata, dove fa uno studio dell'economia industriale italiana dal 1861 ad oggi. Un altro libro che vi ho consigliato sempre di Patrizio Bianchi, che è un ottimo economista, si tratta di 4.0, la nuova rivoluzione industriale. Quante volte si è detto in quest'anno di pandemia che si vorrebbe tornare alla normalità per quanto riguarda il tema scuola? Ma sicuri che si vuole tornare alla normalità? Perché Bianchi non ha alcuna intenzione di tornare alla normalità, in quanto l'obiettivo non è solo quello di andare oltre il Covid, ma abbattere anche tutta una serie di limiti e disuguaglianze che esistono all'interno dell'istruzione italiana e che sono una delle principali componenti alla bassa crescita economica di questo paese negli ultimi anni. La volontà di Patrizio Bianchi di non voler tornare alla normalità pre-pandemia sul tema scolastico si evince da tutta una serie di analisi sulle performance della scuola in tutti questi anni, che non sono sicuramente confortevoli e che nel libro vengono spiegati abbastanza bene. Per analizzare la performance della scuola italiana fino ad oggi si potrebbe vedere la percentuale dei NIT in Italia, che è uno dei livelli più alti in Europa. Per NIT si intendono quei ragazzi tra i 15 e i 34 anni che non sono né in un processo educativo, né in un processo di formazione che poi gli potrebbe permettere di entrare nel mondo del lavoro, né in una fase di lavoro, quindi employment, che è la seconda E dei NIT, che è un acronimo. Il basso numero di laureati in confronto alle altre nazioni europee. I preoccupanti risultati dei test invalsi, che sono per l'appunto dei test per valutare l'efficacia dell'apprendimento da parte dei ragazzi durante tutto il ciclo di educazione scolastica. Ad esempio si può vedere, prendendo questi dati, che alla fine del ciclo delle scuole medie, quindi alla fine della terza media, un ragazzo su tre non ha gli strumenti necessari per comprendere correttamente un testo oppure per svolgere correttamente un equazione un problema matematico. Un ragazzo su tre. Un ragazzo su tre. I risultati in quinta superiore non migliorano, anzi in matematica andiamo oltre il 40% dei ragazzi che non apprendono adeguatamente la materia. Ancora si potrebbe prendere l'indice DESI, che va a calcolare quanto la popolazione ha delle competenze nell'ambito digitale, che sta diventando sempre di più un ambito fondamentale per poter progredire non solo a livello sociale ma anche a livello economico. In questo caso le statistiche purtroppo sono ancora a nostro sfavore. Infatti siamo uno dei paesi con le più basse competenze digitali a livello europeo e siamo gli ultimi se prendiamo la sola componente di capitale umano. Quindi anche qui è abbastanza preoccupante. I tassi di abbandono scolastico anche qui sono tra i più elevati a livello europeo e quindi di conseguenza incidono sulla formazione, sull'istruzione dei futuri lavoratori di questo paese. Tutti questi dati bisogna vederli anche con un'ottica di questione meridionale. Se infatti questo termine viene utilizzato sempre a livello economico, ormai da molti anni si può utilizzarlo anche a livello educativo e di apprendimento. Tutte queste statistiche che abbiamo enunciato sono molto più accentuate a livello negativo, quindi molto più gravi come fenomeni, più al sud rispetto a chi al nord. Lo so, la lista è lunga ma potremmo citare anche la difficoltà di comunicazione tra scuola e impresa. In questo senso ad esempio si potrebbe prendere il tasso di occupazione tra i giovani tra i 20 e i 34 anni con una laurea. Se in Italia infatti questo tasso è pari al 62,6%, in Europa è pari all'85,5%. E nel sud Italia sempre lo stesso tasso di occupazione dei giovani è pari al 41,3%, proprio per sottolineare l'esistenza di una questione meridionale non solo a livello economico ma anche a livello educativo, formativo e di istruzione. Infine, per non parlare della bassa attitudine dell'intero popolo italiano questa volta, quindi non solo da parte dei giovani, di continuare il loro percorso formativo una volta finito il loro ciclo scolastico e universitario. Praticamente in Italia cosa succede? Una volta finito l'università o il liceo, gli italiani, la maggior parte degli italiani smette di imparare. Ovviamente in un mondo che cambia continuamente questa attitudine non è particolarmente favorevole ad una crescita economica, in quanto le competenze nel mondo del lavoro si aggiornano anno dopo anno. Tutte queste problematiche hanno anche un punto in comune a livello economico. Se infatti i livelli di investimento in istruzione in Italia nel 2009 erano pari al 9,21% della spesa pubblica italiana, nel 2016 questi investimenti in istruzione è calato al 7,81%. Allo stesso tempo la Germania nel 2009 aveva un investimento in istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale pari al 10,19% e nel 2016 questi investimenti sono rimasti al 10,93%. Ma io lo so cosa state pensando, e vabbè ma per quei tagli è colpa dell'Europa? In realtà no. Infatti l'Europa in tutti questi anni ci ha chiesto una politica di bilancio sostenibile, ma non è mai entrata nel dettaglio a dire questo lo devi tagliare e questo no. Quindi tutti questi tagli alla spesa sul investimento nell'istruzione sono dei tagli presi consapevolmente dalla politica italiana. Ovviamente ha generato questi risultati anche di crescita economica. Infatti nel libro di Bianchi c'è anche una parte un po' più accademica in cui viene spiegata la correlazione molto forte tra educazione di un popolo e la potenzialità di crescita economica del popolo stesso. Quindi se viene meno una cosa ovviamente viene meno anche l'altra. E questa è una delle spiegazioni che dà Patrizio Bianchi riguardante la bassa crescita economica che abbiamo avuto in tutti questi anni. Quindi l'intenzione è chiara, non tornare indietro ma guardare avanti e riformare la scuola. Ma allora per Patrizio Bianchi cosa si intende per scuola? Quale compito ha un sistema formativo moderno? Innanzitutto per capire quale ruolo deve avere la scuola oggi Patrizio Bianchi si guarda intorno e vede un mondo sempre più globalizzato, sempre più digitale e sempre più competitivo e inoltrato verso la cosiddetta economia della conoscenza. Quindi un'economia post-industriale dove appunto l'educazione della persona entra in primo piano per la crescita economica di un paese. E quindi Bianchi declina la scuola non più come un contenitore di nozioni, in quanto si può prendere direttamente da internet tutte queste nozioni e lo può fare tranquillamente anche un ragazzo. Invece la scuola deve avere il compito di far crescere all'interno del ragazzo una capacità critica, fornire più strumenti possibili per cercare di comprendere il mondo che sta diventando sempre più dinamico e sempre più complesso. Una scuola che insegni a fare comunità e a imparare a vivere in una società molto più complessa, articolata e sfaccettata rispetto al passato. In tutto ciò Bianchi richiama i quattro pilastri dell'educazione forniti dall'UNESCO e cioè imparare a vivere assieme, imparare a conoscere, imparare a fare e imparare a essere. Occorre domandarsi a cosa serve la scuola oggi, nell'epoca di internet, di wikipedia, dei mille social che creano sempre nuove relazioni out of control fra i ragazzi, a volte determinando nuove dipendenze altrettanto pericolose quanto le vecchie droghe, come ha sottolineato Fuggetta. Liberata dall'obbligo di fornire soprattutto nozioni, proprio in questa situazione la scuola torna a essere necessaria in quanto maestra di vita, dovendo insegnare ragazzi a comprendere fenomeni complessi su cui esercitare una capacità di giudizio. Per cercare di acquisire questa capacità di giudizio e questa visione critica del mondo, per Bianchi bisogna rimettere al primo posto le materie STEM, tra cui la matematica. In quanto solo con le materie STEM e la matematica si può avere un approccio molto più propositivo e non essere lasciati indietro dal mondo che sta andando sempre più verso quella direzione, cioè materie sempre più scientifiche. Tutto il contrario di quello che si fa attualmente nella scuola e lo dice lo stesso Bianchi facendo un excursus della scuola dal 1861 ad oggi, in quanto vengono privilegiate soprattutto le materie umanistiche. In questo senso l'approccio di Bianchi è mettere in primo piano le materie scientifiche ma senza tralasciare le materie umanistiche che possono dare un livello di profondità ulteriore ad un approccio analitico che ci danno appunto le materie scientifiche. Quindi non è mollare completamente le materie umanistiche ma metterle a servizio di materie che ci possono far essere più al passo con i tempi. La scuola deve essere anche decentralizzata e quindi il governo dà delle linee guida ma poi saranno i singoli istituti a recepire queste linee guida e fornire l'istruzione necessaria in base alle esigenze sia del liceo che dei ragazzi ma anche del territorio. Infatti come abbiamo visto c'è una forte questione meridionale ovviamente non si può pretendere che la stessa istruzione la si possa dare in egual modo al nord e al sud. Ovviamente ci sono delle condizioni diverse e di conseguenza diversi devono essere gli approcci con l'obiettivo finale comunque di raggiungere lo stesso livello di istruzione. Deve adattarsi la scuola anche al territorio ad esempio se in un territorio ci sono determinate imprese in un altro ce ne sono altre o ancora in un territorio ci possono essere diverse abitudini sociali o famiglie con esigenze diverse e in un altro territorio anche accanto con tutt'altre esigenze. Infatti Bianchi in questo caso cita un passaggio che deve avvenire da dei distretti industriali famosi soprattutto negli anni 70 a dei veri e propri distretti educativi dove c'è una forte interazione tra scuola, impresa, centro di ricerca e anche tutte le parti sociali appartenenti ad un territorio. La scuola deve essere anche valutata ma non con un approccio discriminatorio e quindi distinguere le scuole buone dalle scuole cattive o i territori più ignoranti dei territori più intelligenti ma anzi avere un approccio di solidarietà e quindi aiutare i territori più in difficoltà con a supporto le valutazioni in modo da applicare le politiche più efficaci sapendo bene dove andare a puntare con queste politiche. Sarebbe un'ottima cosa anche riammodernare gli istituti scolastici in quanto solo un terzo degli istituti scolastici è stato costruito dopo il 1976. Quando si parla di percorsi di educazione di formazione o anche di istruzioni in generale non si parla solo ormai della fascia di età che va dai 3 ai 25 anni quando si finisce l'università. In realtà nelle società odierne sta diventando sempre più fondamentale cercare di apprendere più cose possibili e di aggiornarsi anche una volta finito il proprio percorso formativo e quindi la cosiddetto training durante il percorso lavorativo. Questo aspetto è estremamente importante in quanto abbiamo visto ormai che il mondo si aggiorna sempre più velocemente e le competenze dei lavoratori possono cambiare di anno in anno e quindi è fondamentale potersi aggiornare sempre più spesso in modo da rimanere competitivi nel mondo del lavoro e quindi di conseguenza fornire anche al paese una crescita economica soddisfacente. E a proposito di formazione continuativa e quindi dopo il percorso formativo nel 2018 circa i tre quarti degli insegnanti avevano più di 45 anni e questo ovviamente è un ulteriore problema nella capacità della scuola di fornire gli strumenti più adeguati ai giovani che vanno ad approcciarsi verso un mondo sempre più digitale e sempre più innovativo. Quindi in questo senso sarebbe buono formare i professori e gli insegnanti alle nuove richieste odierne e quindi aggiornare tutti i criteri per poter assumere i nuovi professori insegnanti che poi andranno ad insegnare ai nostri figli. Un'altra riforma che potrebbe avvenire con il governo Draghi potrebbe essere quella di diminuire di un anno il percorso di istruzione secondaria superiore oppure per capirci il liceo o gli istituti tecnici in quanto le sperimentazioni che sono avvenute negli ultimi anni sono piuttosto confortanti ma con la diminuzione degli anni di istruzione secondaria superiore da 5 a 4 anni e con una nuova proposta cioè quella di aumentare l'obbligo scolastico dai 16 ai 17 anni in questo modo gli studenti che mollano la scuola la possono mollare con un ciclo educativo completo e quindi conseguire il diploma da poter poi spendere nel mondo del lavoro. Bianchi nel suo libro analizza inoltre quanto uno dei passaggi più critici all'interno del percorso di formazione sia il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori e quanto in questo passaggio ci sia un elevato tasso di abbandono scolastico. Per risolvere questo problema di abbandono scolastico e inoltre di cercare di dare nuova speranza al futuro del giovane bianchi propone un rafforzamento dei percorsi di formazione professionale. Sostanzialmente questi percorsi di formazione professionale sono delle alternative ai percorsi più classici come quelli del liceo o dell'istituto tecnico. Infatti sono dei percorsi di 3 o 4 anni che alla fine di questo percorso danno un diploma di istruzione secondaria superiore al pari di quelli come i licei o istituti tecnici. Questi percorsi di formazione professionale che sono molto pratici e quindi hanno molti collegamenti con le imprese danno delle competenze applicate e pratiche che permettono ai giovani di entrare nel mondo del lavoro con molte più competenze rispetto ad esempio a un ragazzo che abbandona la scuola in quel critico passaggio dalle medie al liceo. Ma non è finita qui infatti oltre a potenziare questi percorsi di formazione professionale in modo da dare a più giovani possibili la possibilità di ottenere competenze pratiche che servono al mondo del lavoro e quindi aiutare anche di conseguenza le piccole e medie imprese magari del territorio in cui si è formato quello studente. Esistono altri istituti di formazione questa volta terziaria e quindi più o meno paragonabili all'università che vengono definiti istituti tecnici superiori. Come abbiamo detto sono dei percorsi di formazione terziaria quindi si può accedere a questi percorsi una volta ottenuto il diploma di maturità. Sono di durata biennale e favoriscono l'inserimento diretto nel mondo del lavoro tramite un apprendimento applicativo con tirocini in azienda. Questi istituti sono nati nel 2010 ma non hanno avuto molto successo non solo per i pochi finanziamenti stanziati la poca collaborazione con le imprese ma anche perché molto spesso non c'è una comunicazione molto forte quindi si vede questa alternativa come un piano B, un piano secondario rispetto all'ipotesi universitaria cosa che non è assolutamente vera. Per capire quanto questa politica è stata a fallimentare in questi anni in Italia e quanto in realtà potrebbe avere un sacco di potenziale basta fare un paragone tra gli ITS italiani e gli ITS tedeschi. Se infatti in Italia nel 2020 ci sono stati 15.000 iscritti agli ITS in Germania gli ITS sformano ogni anno un milione di persone formate. Tutto ciò nonostante anche nella stessa Italia i tassi di occupazione di queste persone una volta finito il ciclo formativo è estremamente elevato. Tutta questa riforma dei percorsi di formazione professionale degli ITS potrebbe generare in Italia una nuova classe sociale estremamente competente e formata e pronta per il mondo del lavoro con una serie di competenze soprattutto innovative per il mondo d'oggi in quanto gli ITS si occupano soprattutto di aree tecnologiche come l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita oppure tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Insomma tutti ambiti estremamente moderni e che quindi potrebbero dare un nuovo impulso alla crescita non solo delle piccole e medie imprese italiane ma anche di conseguenza dell'intero paese rendendolo più competitivo e più all'avanguardia. Insomma questa è a grandi linee la visione da parte di Patrizio Bianchi che è l'attuale ministro dell'istruzione italiana nei confronti della scuola e di tutto l'apparato formativo italiano. Io vi consiglio di comprare nello specchio della scuola il libro di Patrizio Bianchi, vi lascio anche il link in descrizione e se comprate da qui mi date anche una mano perché mi frega una percentuale da Amazon. In quanto il libro non solo dà appunto un'opinione personale di come dovrebbe essere la scuola ma fa anche un'analisi della scuola nel contesto sociale, quali ruoli ha avuto la scuola durante tutti questi anni e a secoli di civiltà umana ed ha anche un approccio accademico su quanto la scuola sia importante per la crescita economica di un paese. Insomma è un libro abbastanza ampio ma anche divulgativo e che va subito al sodo. Ve lo consiglio se volete approfondire questi argomenti di cui io oggi ho dato un sguardo generale. Ringrazio gli abbonati come al solito per sostenermi in questo progetto non so ogni volta come ringraziarli più di così perché veramente sono belli siete! Ovviamente ci sono tutte le ricompense, link in descrizione come ad esempio il canale e il gruppo Telegram dove discutiamo ogni giorno, ogni giorno sono troppo stanco. Ogni giorno faccio una rassegna stampa, anche delle notizie in generale. E niente, ci vediamo al prossimo video e alla prossima! Spero vi sia interessato! Ciao! 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 Ciao!